Il caso Majorana Pelizza Rino Di Stefano È possibile che esista una tecnologia in grado di trasformare la materia in energia pulita, riscaldarla, trasmutarla o addirittura trasferirla in un'altra dimensione? Sembrerebbe fantascienza se non ci fossero prove che attestano l'esistenza di una misteriosa macchina che, a partire dal 1976, ha suscitato l'interesse di tre governi, italiano, americano e belga, oltre al Vaticano. Questo saggio racconta la storia di un'inchiesta giornalistica iniziata nel 2010 e durata fino ai nostri giorni. Con questo libro scoprirai. Come Rolando Pelizza, il protagonista di questa inverosimile ma documentata vicenda racconta di essere stato l'allievo di Ettore Majorana. Le perizie forensi certificano che le lettere mostrate da Pelizza sono state vergate dalla mano di Ettore Majorana e le foto sono inequivocabilmente quelle dello scienziato siciliano. La possibilità di trasmutare la materia, dimostrata da Pelizza, da alcuni video e da una medaglietta che poco prima di morire avrebbe trasmutato in oro puro al 100%, inesistente in natura, e molto ancora. Commento Il piano fisico è energia materializzata. I maestri immateriali lo hanno iniziato a spiegare nella seconda metà del secolo passato. La trasmutazione dell'energia in materia giunge dal piano d'esistenza astrale. Per la stessa legge, le vite individuali e collettive si preparano prima nel piano astrale e decadono poi nel piano fisico. La genialità di Ettore Majorana come quella di Einstein è nell'avere intuito e portato a terra delle verità spirituali. Grazie. 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 Grazie a tutti.